Che dire ai giovani tarantini? Seguire la propria passione, crearsi un futuro, non pensare che solamente andando fuori, perché tanti i nostri coetani vengono da noi Joseph mi fai il volo per la Germania, cioè ormai il boom della Germania vanno ovunque questi ragazzi, quindi cosa diciamo ai nostri coetani? Credere nel nostro territorio, l'importante è che attendiamo tutti noi, che ci sia qualcuno che risvelli quello che noi abbiamo Se qualcuno, come dicevi prima, le isole, c'è solo l'AMAT che fa avanti e dietro, è vietato lo sbarco delle proprie barche, forse perché è piccolina l'isola Ok, però se creiamo un messaggio pubblicitario, vieni a Taranto, che oltre il museo, le belle spiagge, ci abbiamo anche le isole Oppure oltre quello ci abbiamo quell'altro ancora, la città vecchia, insomma le persone avrebbero più motivazioni e stimoli per venire Che ne sappiamo, magari un giorno avremo, non sapremo più dove mettere le persone, avremo bisogno di costruire ancora più strutture Grazie